sul canale fx di di streaming è stato è stato presentato questo come un cortometraggio battle a big rock praticamente questo contro il metraggio per come la vedo io al tentativo di universo di tastare un po il terreno di vedere dopo il giurassi park il regno il regno distrutto che sono stati come sapete nel finale liberati di dinosauri sulla terra di farvi vedere un attimo le reazioni del pubblico a una scena del genere che ricorda tantissimo giurassi park il mondo perduto ma ricorda tantissimo la scena di spilberg del secondo capitolo praticamente questo cortometraggio di otto minuti è molto ben fatto diretto da colin trevolo del registro del primo giurassi world vediamo questa famiglia che sta facendo campeggio in un parco classico parco americano e a un certo punto ci sono due rinocero di rinocero triceratopi due triceratopi una mamma triceratopi con un bambino che vengono lì e si accorgono dalla finestra che comunque stanno facendo qualcosa senza spoilerare cosa succederà più avanti le scene che succedono in questi otto minuti sono ben dirette con delle buone musiche la tensione che traspare da queste immagini ti fa emozionare e poi quello che succede comunque è fatto anche bene come arrivare gli effetti visivi non sembra di non sembra nemmeno un cortometraggio vi consiglio darci un'occhiata c'è su youtube in inglese sul sito giurassi world ma metterò il link in descrizione però secondo me l'universa è l'alternativa di tastare un attimo se il pubblico è pronto a un genere di a un proseguo di giurassi world verso quella direzione di questo franchise dopo la scelta che è stata fatta alla fine giurassi world il reno distrutto di proseguire con questi dinosauri dispersi sulla terra insomma come alla fine del film di giurassi world il reno distrutto sul t-rex che ringhi in faccia al leone eccetera eccetera questo sono otto minuti che siccome vi piaceranno vi rendono vi possono possono essere emozionati con l'intervolo continua avere una buona mano come regia in questo genere di film vi metto all'inglese sezione guardatela poi se volete commentare batter a big rock ispirata giurando giurassi pagina si vuole va bene ragazzi poi commentato questo qui un cortometraggio alla prossima ragazzi ciao